e bella tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video eccoci qui tornati voi siccome avete letto il titolo oggi vi farò vedere un po come agisco io come utilizzo il mercato e vi spiego un pochetto di cose che io faccio per cercare di fare gold ovviamente regà non sono il più grande pro dei pro dei pro dei pro su fare gold faccio guide ogni tanto alcune funzionano di più alcune funzionano di meno però quest'oggi volevo essere un po più chiaro e farvi vedere come io agisco e che cosa io faccio sto utilizzando innanzitutto tsm che è un addon importantissimo per fare gold presto arriverà un video dove spiego come scaricarlo e come impostarlo in ogni caso regà quello che vedete che io sto facendo ora è postare degli oggetti perché è utile questo addon questo addon è utile perché vi risparmio un sacco di tempo ad esempio io qui vorrei mettere in vendita un po di embronese bucket che è un bugger che sarebbe tipo un oggetto per il transmog che sarebbe uno scudo questo scudo qui di solito io dovrei premere il tasto destro e metterlo in vendita sulla casa delle aste qui quello che fa è tsm mette a confronto i vari prezzi e mette il mio oggetto a un prezzo normale al quale vende realm e di conseguenza tsm tiene aggiornati tutti tutti realm e come vedete ad esempio qui mi dice di solito questo oggetto vende a tot gold nel tuo caso vende a 700 e così via è una spiegazione brutta quella che ho dato però è giusto per dirla velocemente quello che fa tsm quando tu metti un oggetto sulla casa delle aste c'è la possibilità che qualcuno metta un prezzo più basso del tuo di conseguenza c'è da essere molto ma molto presenti nella casa delle aste per vendere più velocemente cancellate la vostra asta e la rimettete riuscirete a vendere prima rispetto a uno che fa questo progettimento tipo soltanto quando gli scadono gli oggetti questo qui ok ovviamente rega c'è sta tantissime cose da tener conto su world of warcraft rega dovete essere molto ma molto flessibili dovete riuscire a capire a che prezzo vendono alcuni oggetti ovviamente c'è sta un'infinità dei fattori rega io cerco di darvi una mano per riuscire a vendere come vedete qui ho messo alcune cose in vendita poco fa e già stanno vendendo ovviamente tsm ci aiuta anche a riuscire a prendere gli oggetti più velocemente dalla casella delle post della posta ad esempio io ad esempio una volta ogni due giorni ritiro i soldi ho fatto dalla case delle aste in questo caso per oggi da questa mattina a questa sera ho fatto 6.000 gold in realtà non è tanto sinceramente però comunque sia la ruota gira come si dice adesso rega ovviamente non sarò qui a parlare per tre ore di come mettere oggetti sulla casa delle aste ma vi farò vedere anche alcune altre operazioni che tendo a fare allora mentre qui tsm sta facendo il suo lavoro vi farò vedere che cosa penso di fare oggi cioè questa sera rega io di solito quello che faccio è con tsm riesco a vedere le varie professioni ad esempio questa sarebbe incantamento aspetta no vedete ora la vedete questa sarebbe incantamento con tsm vedrete che mi appare un'altra lista strana con prezzi rossi e prezzi verdi praticamente tsm che cosa fa per questo oggetto qui che sarebbe l'enchant bracer internal internal intellect praticamente mi dice guarda se tu compri questi materiali dalla casa delle aste crafti l'oggetto lo metti a vendere avresti un guadagno di un guadagno di 467 gold di conseguenza quello che vado a fare io è andare a dare una scrollata qui sui shadowland incanting ovviamente questo funziona anche con tu con cult iran e così via dopo sta a voi scegliere che cosa fare io mi concentro solo sull'ultima espansione per questo video però ogni tanto sappiate che vendo anche incantesimi dei dei altri delle altre espansioni incantamento incantamento si dice così è veramente veramente buona come professione io la utilizzo da due espansioni in qua l'ho maxata subito sia nella vecchia espansione che in questa e devo ammettere che sto riuscendo a fare un po di gold qui continuo a mettere in vendita tutti questi altri oggetti come vedete ho craftato con tailoring un bel po di questi oggetti periodicamente vendono so che pare una stronzata ma in realtà vendono anche ancora abbastanza qui stanno vedendo vendendo altre cose ho visto un altro enchanting ring quindi un altro incantesimo di conseguenza come vedete enchanting funziona funziona anche abbastanza bene sto vendendo anche qualche pet che ho flippato in giro per i vari server ad esempio se andate su un altro server e avete un tot di gold potete controllare i vari pet se c'è un pet che vende a meno di un altro server potete comprarlo trasferirlo su questo server già ho fatto un video lo trovate qua sopra in alto vedetevelo che lì spiego come fare i flip dei vari pet tra i vari mondi qualcosa fischiato della mi fa piacere continuo intanto a postare questi oggetti ovviamente dovete stare attenti a quali oggetti postate qui tanti vedranno che ho perso un sacco di soldi però sono andato a flippare un oggetto ovvero ho comprato un bio e che sarebbe un oggetto epico di rarità che sarebbe questo anello qui che l'ho comprato a 60.000 gold o qualcosa del genere e come vedete adesso questo anello qui vende a 197.000 se io riesco a venderlo più o meno a questo prezzo riesco a fare un bel po' di stonks ovviamente fare flip di queste dimensioni non lo consiglio se siete nuovi al gold making perché potreste andare a rimetterci i soldi su un altro realm ci ho rimesso un bel po' di soldi però se volete provare a investire potete provare a farlo ad esempio su tsm scusate io dico utilizzo tsm quindi dovrò farvi paragoni con questo programma quello che faccio di solito e vado su browse e qui ci metto la ricerca dei item epic praticamente se scrivete questa cosa qui tsm andrà a cercare tutti gli oggetti di rarità viola quindi livello 60 per equipaggiarli dal livello 190 al 213 so che adesso sono usciti livelli più alti però per il momento io mi concentro su questi perché secondo me per adesso questi ancora vendono quindi io mi concentro a comprare e rivendere oggetti di questo tipo ad esempio se io adesso avessi soldi come vedete qui ci sono questi due oggetti che vendono a prezzo basso rispetto alla media di altri server ad esempio questo vende a 35.000 quello che potreste fare qui non lo fate perché è un flip brutto però ad esempio questo qui fatemi vedere qualche altro oggetto se c'è qualcosa che vale la pena flippare no in realtà qui non ci sta niente forse questo qui ad esempio il desma fistos praticamente sarebbe tipo non so che sarebbe si sarebbe per le mani praticamente come vedete questo oggetto qui vende a 44 mila gold ok e sotto vedete che vende a 50 mila gold un flip possibile sarebbe comprare questo oggetto e metterlo in vendita acqua a 50 mila o 54 mila gold così che se qualcuno lo compra voi avete un guadagno di 8 mila gold ovviamente se andate a fare questa cosa con oggetti più costosi riuscirete a guadagnarci di più e così via oppure se ne so se trovate un oggetto singolo ad esempio guardate questo qui questo vende a 300 390 mila però un item level 207 ed è l'unico del suo genere in vendita magari questo potrete comprarlo e rivenderlo sulla casa delle aste a 500 mila gold o qualcosa del genere i flip funzionano così praticamente ve lo spiegate in modo molto veloce molto grezzo allora adesso quello che andiamo a fare e andiamo a ritirare i nostri soldi perché mi servono come vedete ho speso un sacco di soldi nell'ultimo periodo uno perché ho comprato il gettone wow quindi 160 mila gold volate via così e altri 60 mila ho investito in quell'altro in in alcuni flip di queste grosse dimensioni volevo far vedere un attimo quando sta è sceso io ieri no l'altro giorno l'ho pagato 166 mila gold il gettone wow però adesso è sceso in ogni caso che cosa andiamo a fare adesso quello che io quello che a me piace fare è vedere un po' in generale c'è da fare un bel po' di matematica e stare attenti a queste cose c'è da ragionarci sopra se vale la pena farlo o no ho appena venduto un altro enchant quindi questi sono buoni buoni vendono abbastanza bene vado a craftare due di speed quindi in totale 17 mila invece vuole mi sa che non posso comprarli tutti questi li posso craftare quindi craftiamo per fore così intanto me li levo dalla lista anche perché alcuni materiali già li ho no nice allora adesso vado a comprare un po' di umbra shard no come si chiamano questi vabbè vado a comprare un po' di quel filo per craftare oggetti con il tailoring perché quello che faccio io come ho detto nell'altro video è di solito trovo più proficuo craftare ad esempio 10 di questi oggetti ad esempio il crafting cost mi viene a costare per craftare questi oggetti 225 gold mentre se io lo disincanto come potete vedere qui fatemi vedere il disincanting value è di 242 gold di conseguenza io vado guadagnarci quei 20 gold ovviamente è una cosa che dovete controllare se sul vostro server vale la pena fare nel mio vale di conseguenza lo faccio detto questo boys vado due secondi a comparare il tutto e iniziamo con il crafting ok boys eccoci tornati ho comprato 200 di penumbra thread dammi due sì yes di questo mi sa che andiamo craftarne solo uno oggi direi proprio di sì raga ripeto scusate se sta guida potrebbe sembrare un po' strana e un po' insolita però visto che tanti mi hanno chiesto consigli su come fare gold ho deciso di farvi vedere quello che faccio nella mia mente come ragiono sulle cose ovviamente raga capace che sto sbagliando non è che per forza dico cose giuste se magari voi vi accorgete che sto dicendo una stronzata paurosa cioè scrivetemelo nei commenti alcuni video dei ragazzi me l'hanno detto e infatti io ci sono stato più attento successivamente a alcuni tipi di comportamenti e sono stato attento a dire alcune cose quindi raga per me la vostra opinione importante quindi se volete consigliarmi qualcosa se vedete che sbaglio qualcosa mi raccomando scrivetelo nei commenti perché comunque sia a me mi aiuta a migliorare ripeto non sono un pro del crafting di gold faccio quello che ho capito da internet sono arrivato qui praticamente studiando cose su internet quindi raga per me vale per me è importante sentire la vostra opinione ecco se vedete che sbaglio qualcosa ditemelo scrivete nei commenti che io leggo tutto e rispondo a tutto cerco di essere anche veloce nel rispondere ai commenti allora eravamo arrivati che devo craftare altri di questi caps che mi sono finito ma sono scemo mi sono finito il il silk e purtroppo le assi queste cose dovete stare anche molto concentrati io adesso cercando di parlare ho detto ho fatto ragazzate ho venduto un po di cose non devo vendere non posso neanche 20 mamma mia mi sto finendo il gold regà no no fidatevi non fate la mia cavolata di spendervi tutto il gold lasciate sempre sempre tipo 30 mila gold da parte pian piano come avete visto prima me sto rifacendo gold però è comunque abbastanza una sbattitura dover aspettare che vi arriva il gold io ho speso un sacco di cose ho fatto anche quel flip però era un offertona dovuto assolutamente flippare quell'oggetto che tra parentesi adesso che sono usciti altri oggetti nuovi di item level più alto poi sicuri che non riesco a venderlo però questi sono particolari allora continuiamo a craftare questi e poi li andiamo a disincantare crafto crafto soltanto questi poi se mi avanza qualcosa crafto alcuni di questi oggetti qua sotto si riesco a portarli buono craft 1 nice vabbè non ho avuto modo di craftare le stesse cose che avrei voluto craftare in ogni caso adesso andiamo a vendere quello che ho craftato ora vi faccio vedere quello che andrò a vendere praticamente tutto sto tempo regà a parte che ho rimesso in vendita alcuni oggetti già che avevo ma sono arrivato il punto di craftare questi oggetti qui che vedete ora sono pochi si ho perso tanto tempo a dire cavolate si però comunque sia ecco volevo farvi un po vedere come come agisco io e come ragiono sopra le cose così che se qualcuno mi dice che sto sbagliando posso ragionarci sopra e magari migliorare il mio gold making e allo stesso tempo volevo anche far vedere a quelli che proprio non hanno idea come fare gold che cosa faccio ok allora vediamo undercutting competition nice praticamente qui dice che stiamo mettendo i nostri oggetti a un prezzo inferiore dei altri oggetti che già ci sono in giro questi perché non me li hai messi scusi dai su questi li mettiamo pure in vendita a posto praticamente regà anzi questo quando mi viene a costa 17 non so se worth it no non è per niente worth it no non ci guadagno niente not worth it at all detto questo regà praticamente possiamo concludere il video come vi ho detto è un video un po strano voglio augurarvi un buon natale a tutti quanti perché oramai se state vedendo questo video stiamo sotto natale quindi a buon natale a tutti se non avete visto altre guide dove spiego come fare gold trovate tutto in descrizione detto questo regà bella a tutti grazie mille per la visual scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate i vostri pareri e i vostri consigli detto questo ragazzi bella e ci beccheremo con il prossimo video